Buongiorno, benvenuti in un nuovo giorno e in un nuovo video. Allora adesso ho messo sui cornetti fagiolini, per chi non è delle mie parti, i fagiolini che li cuocio, poi li passerò in padella con dell'aglio e del formaggio grattugiato sopra. Però adesso vado a farmi una pausa, quindi cosa vado a fare? Una pausetta proprio velox velox, mi faccio una spremuta d'arancia e mi mangio due o tre noci, niente di che, quindi vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvi vedere quello che faccio, ok. Sto facendo un videochiamato ai colloqui di mio figlio nella scuola, quindi oggi ho dovuto darmi una arbenza un attimo più normale, visto che ero un po' così, un po' sullo sconvolto. Tra l'altro ho tirato fuori oggi l'impasto della pizza per stasera, dal frigorifero, in maniera che adesso la raggiunga a temperatura ambiente, dopo posso andare a comunque stenderla. in questo barattolo dove metto le noci, ne prendo circa... in questo barattolo dove metto le noci, 5 pezzettini... 5 pezzettini... Aron... Eccolo... Niente di che... Eccolo... 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 Grazie a tutti. Voglio fare un dolce, ma non so se fare dei biscotti di noci o dei biscotti con le gocce di cioccolato. Appena mi arriva l'ispirazione poi farò. Questa è più o meno la pausa di metà mattina. Sono le dieci, ovviamente io sono in piedi dalla prima delle sette, per mio figlio il più piccolo. Quindi per me è metà mattina. Insomma, di sicuro non faccio come quelli del grande fratello che dormono fino alle 11. Beh, a più loro c'hanno un cavolo da fare. Si prendono un sacco di soldi. Più di me. Forse non ho capito qualcosa, non lo so. Però vabbè. Dai, adesso finisco. Mi spremuta. Ci vediamo dopo quando i miei cornetti sono pronti e li butto in padella, così vi faccio vedere. Anche se è una cavolata, eh. Però vi faccio vedere cosa faccio. Ciao ciao un tanto. Eccoci qua. Questi sono i nostri cornetti che sta facendo andare con lo spicchio d'aglio, pasta. Poi ci metto una spolverata di formaggio grattugiato. Oggi così e questa era la pasta pasticciata che abbiamo mangiato oggi.